giuseppe conte torna all'università dopo la doppia esperienza di governo cosa ha detto l'ex premier giuseppe conte torna a fare il professore dopo essere stato costretto a fare un passo indietro in favore di mario draghi a causa della crisi politica avviata da matteo l'ex premier sul punto di riprendere la sua attività accademica nell'ateneo fiorentino il ritorno alla vecchia vita è stato inaugurato su invito del magnifico rettore luigi dei da una lezione magistralis dal titolo tutela della salute salvaguardia dell'economia lezioni dalla pandemia il discorso è fondamentalmente un breve excursus dell'anno di conte alla guida dell'italia in preda l'epidemia di coronavirus l'emergenza che stiamo vivendo è oggettivamente la sfida più severa che il nostro paese è chiamato ad affrontare sin dal secondo dopoguerra esordisce così conte ripetendo delle parole che ci suonano ormai familiari l'ex presidente del consiglio rivendica le scelte difficili fatte nel corso della pandemia a partire dal lockdown nazionale dello scorso marzo il cui spettro torna a veleggiare anche oggi molti paesi europei che in un primo tempo avevano evitato di chiudere tutto erano stati costretti a tornare sui propri passi ricorda conte fra quelli citati nella nostra carta costituzionale il diritto alla salute è quello espressamente definito fondamentale precisa l'ex premier motivando la decisione di chiudere per conte l'influenza della pandemia nell'attività di governo e non solo è stata totalizzante tutte le attività individuali e collettive le discipline che le regolano le arti che le orientano la politica il diritto l'economia la cultura hanno subito e stanno subendo per effetto della pandemia un profondo sconvolgimento ogni decisione che i governi sono stati chiamati ad assumere hanno assunto i connotati di una scelta tragica non sono mancati riferimenti all'attualità e al governo del quasi tutti dentro guidato da mario draghi che ha visto una giravolta a u di matteo salvini sui temi europeisti conte ha detto che adesso c'è euforia per le professioni di fede europeiste che si sono moltiplicate in italia in queste ultime settimane tanto più che alcune di queste sono giunte inopinate ma l'europeismo non è una moda